Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi e con il tuo Spirito. Il Paradiso non è un luogo da favola, nemmeno un giardino incantato. Il Paradiso è l'abbraccio con Dio, amore infinito, e ci entriamo grazie a Gesù, che è morto in croce per noi. Dove c'è Gesù c'è la misericordia e la felicità, senza di Lui c'è il freddo e la tenebra.